calma ok vedi che ci vuole poco però in gara non è che abbiamo due possibilità sofia bravissima stai su ok molto bene bravo sono di casa ormai sia cattolica che a campus mi aspetto come al solito che di trovare dei ragazzi che abbiano veramente voglia di imparare se dedichino veramente tienili bassi tienili sotto il tacchettino tu quando vedi che devi fare qualcosa molli no non è mollare devi mettere le gambe tenere il contatto e stare su con le spalle ok ancora una volta stai concentrata sulla barriera attenzione a capire quello che fa il loro cavallo a quelle che sono le esigenze quello che è l'equilibrio la bocca del cavallo al loro equilibrio che si muovono sempre con il cavallo e non contro il cavallo ok morbida 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 ok qui vuol dire che sono su con le spalle e tengo il centro del salto brava un pochettino il ritmo ok stai leggera stai leggera quindi dare delle cose che a loro rimangano dentro sicuramente io quando li prendo per me sono miei allievi grazie a tutti Grazie a tutti.